ho paura no e dai no soffi no no eccolo si ci ha fatto soffi ciao a tutti e benvenuti nel canale di sofì papi e oggi che facciamo di bello oggi su stable guys giocheremo ad arena nerf per arrivare al livello 18 e finalmente potremo prendere le due skin cercheremo di prendere tutti i materiali che servono per poter avere la skin leggendaria dell'evento siamo arrivati a che livello livello 18 ci siamo quasi anche perché poi sofia una volta raggiunto il livello 18 ci manca soltanto che cosa il gatto e il cane però questi dobbiamo sciopparli e sofì quindi iniziamo a giocare daria è l'ultima partita ci siamo quasi ovviamente qui c'è il nostro peperoni vero sofì e speriamo che ci porti fortuna perché l'abbiamo scioppato gli piace molto a gabrile non si dovrebbe chiamare pizzaiolo non lo so si chiama pizza peperoni anzi peperoni 3000 ma siamo sull'arena nerf dovete sapere che sofia è diventata molto brava a questo evento adesso spero che non ci facciamo una brutta figura qua durante il video tanto sofia l'importante che riusciremo a raggiungere il livello 18 qua è un casino il primo quadro io faccio la cronaca ho già preso il mitra ma c'è uno fermo sofia c'è uno fermo qui 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 sotto ah è già morto l'hanno già fatto fuori qua chi si salvi chi può perché praticamente c'è un sacco di gente e l'importante è sopravvivere insomma papà io avevo già preso il mitra quindi non c'è bisogno praticamente sei già bella carica ti manca solo uno scubo a chi è questo ahi so fallo fuori vai sofì e tu e tu e tu si si no 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 troppo giro che ballo vai 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 seguilo seguilo è forte è morto sofì dov'è che fine ha fatto è sparito eccolo qua dai sofì dai fallo fuori non è morto si si l'ho ucciso è per questo che ho vinto perché vediamo vediamo hai ragione l'ho ucciso tu quindi hai già una kill dovete sapere anche se l'evento finisce domani e quindi lo spieghiamo sarà sempre nella mappa ci sarà nella mappa in finale ci sta molto il bug della gente che aspetta che scade il tempo giusto sofì ma adesso non vincono tutti ma bensì alla fine vince quello che durante tutta la partita quindi tre round ha fatto che cosa sofì ha fatto più più kill giusto più kill quindi non dovete giocare soltanto per per scappare altrimenti non serva nulla questo qua è morto sopì vai vai sopì tuo stavo aspettando lo scudo dai prendi lo scudo vai qui dai dai cerca di resistere arriviamo almeno in finale ma perché riprende da questo che sta questo qui che ti fa sopì attento scappa 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 questo qua questo verde questo verde qui è vero sopì no 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 sopì non è l'arma buona non c'è manca lo scudo devi trovare lo scudo scudo qui si è caricato sopì si scappa 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 ma che vuole questa valchiria da te questa frozen valchiria dai sofì stai messa bene devono essere eliminati due s in finale vediamo qua 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 la valchiria la valchiria è morta la quitti la quitti subito vai sofì è tua è tua vai 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 no 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 è morta quasi è morta dai vai che è morta dai papi devo prendere cioè eh sì dai prendi gli scudi dai cioè no devo prendere l'arma buona allora il warden tutti dicono che non è buono qualificato tutti dicono che non è buono il warden invece soprattutto la finale uno contro uno da ravvicinato fai danni pazzeschi capito sopì tu ti sei vissata col mitra comunque siamo arrivati in finale papi parla tu perché io sto giocando eh lo so sto facendo la cronaca perché sopì acqua è impegnata vediamo se riuscirà a vincere una corona sopìa guarda subito scudo tra l'altro amici in base a come spawnate nella partita potete prendere un bel vantaggio vero sopì quindi tu già adesso sei carica sei carica a palla io ti direi di fare il tuo solito trucco qual è il tuo trucco praticamente il mio trucco è mi fare la codarda praticamente devo stare qua aspettare che tu elitica e poi io dà qua tipo questi qua praticamente Sofia che fa c'è qualcuno che ti vuole ti vuole fare fuori praticamente Sofia che fa sta bella bella lì ad aspettare quando vede due che si stanno sparando vada dietro se è possibile e va a prendere va a prendere gli scudi scappa Sofì questo ti vuole fare se no Sofì vai 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 oh Sofì no Sofì sta per morire no dai Sofì no la c'è lo scudo la c'è lo scudo qua c'è lo scudo fai il doppio salto sì scudo sì vai vai a destra vai a destra c'è l'altro scudo la mappa la conosco ti faccio un po' da guida eh ecco qua ecco qua c'è uno che stava aspettando quindi niente di che Sofì ma non sta fatti il giro della morte sì uno due il nostro giro della morte Sofì hai visto ci ha fatto riprodere tutto siamo di nuovo in careggiata Sofì tranquilla ce l'abbiamo fatta il peggio è passato dobbiamo trovare qualcuno che sta quasi per morire nel frattempo ragazzi quando vedete che non avete niente da fare ricaricate i colpi ah esatto con la X anche se non state sparando ricaricate un altro consiglio è questo guarda Sofì anche se non vi servono che si fa Sofì? bisogna prenderli perché così quando qualcuno avrà bisogno non li avrà Sofì questo qua e questo qua oh 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 che fai? voglio dovete togliere dalla disponibilità degli altri mi raccomando vai Sofì altro scudo guarda qua guarda qua ecco il tuo trucco Sofì fra i due litiganti vai su ti spara il testo spara qua solo dietro guardalo guarda quello per uccidere quello sta per morire lui vai Sofì uccidilo uccidilo è tuo è tuo il cereale killer vai Sofì due botte di mitra e l'hai fatto dai Sofì dove? sceso che fine ha fatto mannaggia l'abbiamo perso eccolo eccolo si è caricato si è caricato mannaggia sua ma è vero che questo è forte visto che fa giro dietro l'ango guarda a pochissimo stai ancora litigando dai 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 il cereale vai spara il cereale sparalo spara questo non lo sparare allo shogun mettiti dietro lo shogun no 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 non devi mai stare avanti vai è tuo ma che fine ha fatto è tuo il cerealino il cereale è te se loro si scannano guardali vediamo però questo è forte Sofì da te sta venendo Sofì sta venendo da te Sofì attenzione sta venendo da te Sofì mi sa che questa parida se non vieni killata si finirà in parità in parità contano le kill scappa 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 Sofì Sofì scappa Sofì t'ha fatto t'ha fatto Sofì vai qua prendi gli scudi prendi gli scudi vai prendi gli scudi si 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 ho paura se mi fai dai almeno no e dai no salta salta fa il giro della morte il giro della morte vai ce la fai uno bravissima Sofì due e tre sei ancora viva dove vai dove vai a prendere l'altro scudo si si è di nuovo carica siamo in nuovo carichi raga se vincerete non sarà certo guardalo come sta lui non sarà certo perché ci chillate vero Sofì ma che fai oh bravissima ti stanno uccidendo Sofì oh lo sugar master ti sta sparando Sofì scappa scappa perché mentre tu sparavi lui quello sparava a te ecco comunque adesso raga parlando seriamente è un po' fatto male questo oh è quasi morto Sofì questo livello sapete perché perché spavano troppo oh guarda vai Sofì vai 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 tu vai tu adesso scendi scendi non perdere tempo sono morti tutti e due veloce sparalo sparalo fa niente è buono quello spara sempre dai su ti prego oh dai ma ti sei fissata col mitra vedete come si spawnano questi rigeneratori poi subito guariscono a un certo punto secondo me non devono più comparire oppure molto lentamente perché dai stavano lì 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 questi qua erano quasi morti vediamo che ha più vita vabbè Sofì rimani con più vita vediamo scappa da lui scappa da lui scappa scappa non ti fare colpire voglio vedere se con il massimo della vita riesci a vincere oh stava quello là qua sotto stava quasi per morire 6 5 4 3 2 1 vediamo chi vince che te l'ho detto io eliminati perché sicuramente uno di quei due ovvero lo shogun questo dirà proprio forte ha fatto più kill vero Sofì sì va bene comunque siamo arrivati in finale peperoni però ci ha dato tutto il necessario guardare per prendere la ricompensa dell'evento che l'ho fatta finalmente eh però mancano ancora questi due Sofì questi ci usciranno con le gemme spero di sì ecco qua ruota degli agenti vediamo le percentuali Sofì ci manca lieutenant dog face e captain cat face praticamente hanno insieme il 5% di probabilità vuol dire che ogni 100 giri ne escono 5 quindi ogni 10 giri ne esce mezzo ora facciamo 20 giri almeno fateneci un uscito uno e magari quei due dai forza 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 tra l'altro 30 gemme solo vero Sofì no 300 no dico cosa 30 gemme un giro sembra poco secondo me una ruota scammata oh quella non ce l'avevamo quelle leggendari sì ma Sofì qua adesso ci interessa trovare queste epiche qua dai forza no sono passate che bello pure il capibara eh capibara magari dai Sofì ma sono passate oh sì dai Sofì dai Sofì forza i tatuaggi forza i tatuaggi Sofì siamo già siamo già con una buona mega ci manca il lieutenant dog face eccolo sì ci ha fatto Sofì no vabbè raga con solo 300 gemme 300 gemme adesso possiamo prendere quello leggendario Sofì non ci credo poi ci riesce pure il capibara non ricordo no vabbè assurdo raga cioè siamo stati fortunati abbiamo finito tutti i doppioni guarda chissà perché tranne gli unici due che ti servivano guarda quanto sono belli quindi Sofì abbiamo completato l'evento vediamo andiamo a dare una nerf vediamo li abbiamo tutti riscuoti le ricompense sì sì andiamo subito a equipaggiare il nostro robot anche perché Pepperoni mi piace ma questo personaggio vediamolo bene e sarà rarissimo raga sarà rarissimo questo come si chiama Robot Guy Robot Guy è bellissimo guardate che carino sfida vinta Sofia ce l'abbiamo fatta anche in maniera abbastanza facile abbiamo risparmiato guarda quante gemme abbiamo guarda da oggi poi io giocerò sempre con questo sì vabbè tu dici sempre così finché non troviamo le skin nuove più belle però questa raga è davvero spaziale abbiamo completato l'evento veramente in tempo anche se mancano 18 ore quando vedrete questo video sarà sicuramente finito l'avete sono di vero sì ma adesso allora è proprio il momento dei saluti e quindi iscrivetevi al canale per supportarci e attivate la campanellina perdon per nessun video quanto è bello Sofì mettete like e iscrivetevi sui nostri social ovvero instagram e tiktok noi ci vediamo nel prossimo video e ciao abbiamo visto ciao 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 ciao